un nuovo video e oggi questo buongiorno allora non pranzo ovviamente buonasera ragazzi benvenuti a questo nuovo video e oggi ho fatto la intro lo sapete perché perché questo voglio un po di intro questo giornata e quindi facciamolo e quindi il pubblico allora quindi andiamo sul pubblico noi creare perché io ci metto cinque anni e non conquista no oh mio dio devo cercare aspettare un moment bella ma c'è fa vj non ci credo che bello fa vj all'ovvio non è vero è uno sporcazione c'è uno sporcazione lui non è vero non è forse siamo innocenti che bello crea wench andiamo io ti seguo famige perché sei bello non è vero uccidete fatto no sta uccidendo sta uccidendo questo mostro ok usa vol e ora mettiamo in ilia volete è completato e ora devo andare sull'elettrica cosa stai facendo no mi sei tipo disconnesso come 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 no no oh mio dio devo cercare 100 anni allo io entro un creat cream fai conferma yey che bello mongo vai mio dio va un pet soldi posso tipo sciuppare no pata no perché c'è sti ma non l'avvio vai star ok vai yey love you love you che bello love you ok no no sono tutti usciti no ma io sono deluso amico no sono deluso e ma aspetta oh mio dio ecco ma perché sono sempre ultimo perché sempre ultimo no io me ne esco ma io esco aspetta oh mio dio sono tristissimo italia please vai andiamo su italia no allo pronto ciccio bello ciccio what dentro ciccio bello no io vi spot un attimo eccoci alleluia così non mi laggava alleluia guarda eh per favore non mi laggava eh ciao mi chiamo purple guy eh ah no 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 però ho messo la mascherina di coronavirus ovviamente metto di stanza eh oh dio è bello c'è una cartigia ah no la carta ok devo andare su race chicken e però tu tu mi stai seguendo è molto misterioso Sono morto Che bello Oh Maledetto Ecco Mi ha ucciso E Hitler Brun Brun E Brun No E Brun Aspetta E Brun E Brun E Brun E Brun Maledetto Mi ha ucciso E Brun Mi ha ucciso E Brun Mi ha ucciso Brun Mi ha ucciso Brun Aspetta Mi possono vedere Tipo io Uccidetelo Questo Brun E' finita Che bel nome Della tua morte No Non è finita E' finita Non è No Ma povero E Brun Ha detto Ha ragione Non ha ragione Vedi E' finita Non è Incompevole Che palle Sono fanta Io ti controllo Brun Di merda Guarda Guarda Ti controllo Ti controllo Guarda Fale Questo Oddio Posso uscire Della mappa What the fuck Posso uscire Della mappa Vediamo come è la nave Ha un po' di getti Spostibili Ha qualcosa Un po' bello Ok Non fosse C'è Il confine Molto Molto Bello Ecco bravo Controlla Amico Vediamo un po' Le telecamere Non c'è nulla Non c'è nulla Non c'è nulla E Brun Brun ignorante Sono morto What? Posso Traver Mia Compario 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 Spostibili Spostibili Via Non è Brun Non fidate Brun Vedi Non può ovviamente conquistare la quest Ma l'ha detto Brun Ora ti seguo O diventerò bambino Bambino piangente Ti piace famiglia Oddio non ci credo Non c'è che posso aiutare Un mio tipo Perfetto Nice Raga posso aiutare Che bello Ecco Ora devo fare qua Non ci credo Posso aiutare I miei amici Ora posso avere Maledetti Discorziati E fatemi Uh bello Si fa Ok Ah posso Famico Quando io sono Fantasma Che bello Ragazzi Fate Fate Bravi Bravi amici Ecco Ci sono i miei amici Che sono morti Che bello Ok Oddio Un'emergenza Ragazzi fate Cosa What Eh Non posso Non posso fare Ragazzi Non posso amici Non posso Aspetta Posso pigiare il bottone Vedi C'è il corpo Voglio pigiare il bottone Posso pigiare il bottone Non posso Che bello Ragazzi Ok L'hanno fatto Questo Maledetto Lo sapeva Brun Maledetti Disgraziati Maledetti Poi Qui Mi 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 Facciamo L'ultima Gioco E basta Non voglio essere Incompevo Bene Ciao Eccoci Siamo su FUGIF Lover Ciao Amico mio Amico mio Ciao FUGIF Ora dammi il cappello Ovviamente Io sono Un tiso Che Sono Paglio Ok O Voglio dire che è colpa mia Sei Alex Chi è Italiano Chi Chi è Chi è Italiano Sei Alex L'ultima 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 dai fatti 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 go go dai go go missione go go salvini go andiamo andiamo si può ecco sono in 10 che parlo no english spec flip 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 no cambiato lingua ho cambiato lingua chiante avete 13 12 dico la mia età 12 no giova no gio gioca poi la gioca fnaf lingua strana odio c'è slender possiamo fare perché non inizi è vero fuggire per la ver ti amo ma che palle no ecco vabbè per favore trovi un gioco perfetto olè buongiorno buongiorno no no mattica maledetto ora ultima partenza per favore voglio essere un assassino ma non è vero solo un impostore non sono neanche un impostore che bello non avvicinarmi stalker non è vero ma anche te Grazie.